Neanche 24 ore dalle dichiarazioni del centrodestra è subito pronta la risposta del PD sulle critiche mosse alla finanziaria appena approvata. Camillo D'Alessandro rimanda al mittente le accuse e spiega che i suoi predecessori, coloro che oggi lo attaccano, sono proprio la causa del debito accumulato dall'Abruzzo. Anni di bilanci tecnicamente falsi, spiega il consigliere delegato, privi di rendicontazione, un buco da 529 milioni di euro. Mai più le nuove generazioni saranno indebitate dalle vecchie generazioni della politica e dei politici che invece di assumersi le responsabilità hanno rinviato al futuro le non decisioni come se il futuro fosse una discarica e oggi noi e soprattutto i nostri figli pagheranno il prezzo. Se era necessario iniziare a pagare i debiti che hanno fatto altri per liberare risorse per partite essenziali come il sociale, come i trasporti, come tutto il resto che oggi non trova grandi coperture, ma solo attraverso un bilancio verità iniziamo un cammino che ristabilisce priorità e risorse certe. La seconda precisazione la fa sull'accusa mossa la tassazione. Se il centrodestra accusava di aver mantenuto costante la tassazione nonostante il pareggio nei conti, D'Alessandro spiega l'opera in corso per aumentare i servizi sul territorio. I 529 milioni pesano sul bilancio in modo clamoroso. L'abbattimento delle tasse è come se cambiassero la vita i cittadini abruzzesi. Anche un euro per carità sono importanti, ma stiamo parlando di meno di mezzo pacchetto di sigarette all'anno a cittadino. Non stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro. È meglio restituire questi soldi ai cittadini con i servizi, per esempio garantendo le prestazioni essenziali sul sociale, garantendo la sanità, garantendo il diritto ai trasporti. È chiaro che questo è un pelaggio intivenire perché da qui a qualche mese, quando avremo la certezza di poter ammortizzare questo debito in 10 anni, non in 7, si libereranno risorse che andranno sul sociale e sui trasporti.